Gossip, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, la coppia inossidabile Gossip, la coppia formata da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini è unita più che mai. Non avvezzi al gossip, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono la coppia VIP tra le più affiatate degli ultimi anni. Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sempre più innamorati e inseparabili, si godono la vita con una qualsiasi coppia normale ed è questo lingrediente magico che li tiene insieme. . Legati dal lontano 2003, sono una delle coppie più solide della tv. Essi hanno sempre protetto la propria privacy e vissuto la storia lontana dal gossip. . Legame consolidato dalla nascita dei due figli, Orlando e Mia. . Gossip, la coppia era da tempo che non si vedeva in pubblico. . Lultima apparizione mondana è di pochi giorni fa in occasione della prima romana Grease al teatro Sistina. . Il musical festeggia questanno i suoi primi 20 anni italiani e la coppia era tra i volti noti invitati al debutto della nuova stagione teatrale. . I due sono apparsi sorridenti e hanno mostrato molta complicità. . Alessia Mancini si tiene stretta al suo bel marito e lui ricambia. . . Sono abbracci per tutta la serata. . Il tempo sembra non influire su di loro, che rimangono una delle coppie più longeve della tv, visti i tempi con cui i personaggi televisivi cambiano partner. . Il passato di Flavio Moncrucchio e Alessia Mancini. . Alessia Mancini 39 anni, due figli, un passato in tv come Letterina Evelina è una donna che conquista per il sorriso e la risata contagiosa. . . . Da anni è ormai lontana dai riflettori che lhanno vista come esordiente Anonella Rai, poi Evelina distriscia la notizia nella stagione 1997-1998 accanto alla bionda Marina Graziani e infine dal 1999 al 2001 in veste di Letterina a passaparola. . . Lui, il tenebroso Flavio Moncrucchio 49 anni, nel 2001 ha vinto la seconda edizione del Grande Fratello e lanno successivo ha cominciato la sua carriera di attore e conduttore tv. . . . . . . . .